What's up guys, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about l'espressione in cinese. Allora, innanzitutto vi pronuncio, vi leggo. You zhi zhe, shi jing chen. You vuol dire c'è qualcuno, zhi zhe. Zhi zhe è qualcuno che è intelligente, che ha voglia di fare qualcosa. Shi vuol dire la cosa, jing chen vuol dire che questa cosa andrà a fare qualcosa. Diciamo, al successo. Quindi questa espressione in sintesi sta spiegando. Nel momento in cui c'è una persona che ha la voglia di fare, allora, di fare quella cosa, allora sicuramente riuscirà ad avere il successo. Quindi sta anche spiegando che durante la vita bisogna combattere da soli, diciamo, e bisogna combattere fino alla fine. Grazie. Grazie.